ho un po di diretta ho detto oggi mi riposo non faccio niente è da ieri che penso di fare una domenica di relax senza leggere nemmeno per me quando proprio dici non voglio fare niente appunto buongiorno a tutti è una diretta improvvisata quindi se non ci sono se non me la prenderò perché non vi ho avvisato e quindi io e la stefania nasci in beni che qui con me che è l'artefice di tutto perché io questa mattina stavo dicendo ste che volevo coetare non volevo fare dirette però poi che arrivano delle proposte indecenti alle quali non riesci proprio a dire di no tipo no intanto siamo a tre occhietti anche se gli altri due non si fanno vedere però so che ci sono perché qua c'è scritto tre occhietti quattro occhietti allora è la festa della mamma e allora io ho detto no non ho voglia oggi di mettermi lì a leggere poesie per la mamma cose per la mamma la lasciamo andare così questa giornata senza dire niente poi ti arriva una telefonata dove ti dicono potremmo fare una cosa potremmo fare una lettura sul parto allora a quel punto ditemi voi se non è originale questa idea e allora io vi leggerò tanto cominciano tanto arrivano persone sono troppo contento volevo fare una sorpresa ti svelo un segreto c'è qui accanto dopo volevo fare una sorpresa ciao amore ciao andrea allora visto che ci sono un sacco di persone e vi ringrazio perché è un orario del pifero è domenica e quindi bene io direi di cominciare subito allora adesso vi raccontiamo come è stato come dice la ste come è stato far nascere il bimbo di api che è effettivamente il libro edito da morellini di stefania nascimbeni allora io ho scelto un brano non troppo lungo sono soltanto 87 pagine quindi state sereniche questa sera andiamo tutti a casa anzi ci siamo già a casa direi di cominciare d'accordo allora un due tre via dopo quando abbiamo finito vi saluto tutti perché vedo che state arrivando è ho anche un po di cornini qui ma va bene o se improvvisato improvvisata eccoci allora la dedichiamo ad andrea stefania va bene dopo nacque quasi all'alba di un giorno di luna piena che festeggia ogni anno il miracolo di meggiugori ma per qualcuno è il sostizio d'estate al termine di un affosissimo martedì notte infestato dalle zanzare due settimane prima del previsto ma ando bene così perché avevo smesso ormai da tempo di allacciarmi le scarpe non riuscivo più da alzata a vedermi le dita dei piedi e avevo il collo così gonfio da somigliare più a un tricheco gravido che ha una trentenne primipara lo ammetto fui aiutata ancora una volta dal mio dottore del cuore ad accelerare la scadenza per sfrattare prima l'inquilino otto mesi e mezzo di permanenza nel mio utero e la bilancia che segnava 20 chili in più ci parvero più che sufficienti in pratica con quella con quella che in gergo chiamano la manovrina ma la cui denominazione scientifica è scollamento delle membrane se ci sono le condizioni e se praticata da mani esperte il medico o l'ostetrica possono innescarti le contrazioni per indurre il parto in alternativa avrei potuto produrre ossitocina facendo sesso seriamente avrei dovuto promettere all'uomo che avevo sempre venerato nei miei sogni che mi sarei data da fare con il mio ex come se la mia gravidanza non ne fosse un'ovvia conseguenza andò bene la manovrina ma non ci speravo fino in fondo perché su non so quale blog di mamme psicopatiche avevo letto che funziona solo una volta su 5 ci dormi sopra tutta la notte poi feci colazione con latte e cereali e iniziai la mia giornata come al solito leggendo un po' stirando i completini del mini tricheco disfacendo e rifacendo la mia valigia per l'ospedale in realtà già pronta dalla terza settimana verso luna pranzai e dopo il caffè d'orzo mi spiaggiai sul divano a guardare simone ruggiati sul gambero rosso verso le due un dolore simile a quando hai mangiato cotiche lenticchie prima di un tuffo in piscina mi fece quasi cadere sul tappeto pensai di dover andare in bagno e lì mi accorsi di avere il tappo nelle mutande che ovviamente non è quello della san pellegrino ma è un trucco del tuo corpo per avvisarti che ci sei quasi che il bimbo è in arrivo sempre sul blog per de celebrate le mamme avevano scritto che nel 90 per cento dei casi può trascorrere anche una settimana prima del travaglio mi avevano convinta quando stai per partorire oltre al tappo perdi anche la ragione tanto che avevo prenotato il parrucchiere nel weekend certa di rientrare nelle statistiche del web verso le tre del pomeriggio mi venne un mal di schiena tale che pensai a una colica renale detti la colpa al vitello tonnato alla parmigiana di melanzane di mia zia ma alle quattro quando attaccata con entrambe le mani a una fioriera del terrazzo mi ritrovai a urlare muta tipo tipo un video senza audio mentre un cucciolo di elefante mi prendeva calci sui reni capì che era arrivato il momento chiamai il mio ex marito che mi rispose sei la solita esagerata lo stesso fecero i miei genitori via messaggio mezz'ora dopo il cucciolo con la simpatica proboscide si era portato appresso un fratellino e verso le cinque pure un cugino di secondo grado che pesava tre quintali in più presi il ventolin e me lo sparai in bocca diverse volte ma non era asma benché meno allergica motivo per cui uso il ventolin convinsi tutti che non era un'esercitazione che era tutto vero in particolare il mio dolore al basso ventre finalmente il mio dottore mi autorizzò a provare a farmi vedere in ospedale ma mica dovevo cambiare una camicetta da zara della serie la porti negozio così vediamo un po mi risentì per la fretta con cui mi aveva liquidata avrei desiderato più cure da parte sua mai come quella volta il bambino aveva già citofonato nel giro di un istante mi avrebbe bussato alla porta di casa con il nostro nuovo contratto parentale tra le mani come facevano i venditori della folletto 15 anni fa che dopo averli aperto il cancello ti piombavano in casa in tre secondi preparai la cena non sapendo in che altro modo ingannare il tempo ma non riusci a fare più di un'insalata portai fuori il cane il quale tanto perché lo sappiate era un mastino di 50 chili mi investi quindi per la passeggiata bevetti un bottiglione di tè freddo alla pesca e aspettai il mio ex di rientro dal lavoro intorno alle sette di sera finalmente in ospedale non esitarono a ricoverarmi accertando che ero dilatata di tre quasi quattro centimetri la prima cosa che fecero le ostetriche fu attaccare la gigantesca big bubble che avevo al posto della pancia alcuni fili con la testa rossa e gialla simili ai cavi della batteria per auto che si collegavano a loro volta un monitor con l'audio praticamente in filo di fusione quella sera davano la cavalcata del piccolo nascituro in do minore fino all'arrivo dell'anestesista non ricordo nulla a parte il trotto allegro della sua giovane vita venuta apposta per lacerarmi poi con l'effetto dell'epidurale sia benedetto chi l'ha inventata verso le undici e mezza passate riuscì a riposare un paio d'ore nelle quali mi lasciai andare alle note del suo cuoricino al galoppo in assenza di dolore mi sembrò tutto più bello era il minuetto di un cavallino selvatico lo trovai perfino conciliante quasi da dormirci sopra peccato solo per quel suo piedone in 4d che premeva contro la pelle all'altezza dello sterno uno dei miei migliori ultimi ricordi splatter ma anche dolcissimi della gravidanza l'avrei amato all'istante il mio bambino fu proprio allora che capì che eravamo fatti della stessa sostanza che non so ancora quale sia ma ma era la stessa piansi un po' appena mio ex uscì dalla sala parto per avvertire i miei che a breve sarebbero diventati i nonni forse a un certo punto pregai ma non saprei dire chi o che cosa o soprattutto che cosa chiesi perché a quel punto stavo svalvolando quanto mancava non vedevo l'ora di stringerlo tra le mie braccia di mamma appena nata io che mi sentivo ancora così figlia mi svegliai tra pene strazianti e torsioni degni di una maledizione di lord voldermort intorno alle 3 del mattino solleticata dal basso di un trio jazz che suonava della vera musica nel locale all'angolo e oltrepassava perciò la mia finestra avevo dormito e come se avevo dormito ma alla fine l'anestesia si era esaurita del tutto e in quel momento mi toccò richiamare alla mente le reminescenze del corso preparto a cui avevo partecipato una volta sì e una volta no dovevo tirare fuori il mio bambino nel miglior tempo possibile non so come ma in soli 20 minuti di spinte lo feci venire al mondo l'ostetrica me lo rapì dalla vagina per strofinarlo come un panno sotto al rubinetto e subito me lo ripose sul petto pulito e con il completino rosso e bianco che avevo scelto per lui quello con la mucca suo padre fu fiero e felice di tagliarli il cordone umbilicale la prima cosa che fece mio figlio sdraiato sul mio corpo fu la pipì ma dicono che porti bene poi mi prese un dito e se lo ciucciò avidamente premendoselo contro il palato niente denti come da copione ma delle gengive enormi quelle sì fece lo stesso poco dopo con il mio capezzolo sembrava parecchio affamato e non si trattenne da lì le ragadi avevo partorito il bambino di twilight in ogni caso fu amore a prima vista peccato solo che non potei goderne più a lungo di così perché tempo tre minuti avevo rigettato il bottiglione di tè freddo alla pesca insieme all'insalata sul pavimento gioie e dolori dell'epidurale e dell'essere madre una presa di coscienza immediata l'indomani mattina mi arrivò un messaggio dal caro dottore allora come è andata e tu come ti senti sapeva che a casa mia c'era una situazione di stallo cristallizzata dall'arrivo del bebè perciò bastarono poche parole perché la mia idolatria nei suoi confronti tornasse alle stelle bene è nato e verrò presto a trovarti gli risposi felice come non mai un appuntamento che tuttavia avrei mancato per molto tempo una volta di messa mi sembrò di essere stata assunta in una fabbrica dai ritmi robotici pannolini bagnetti termometri digitali biberon ciuccicarion e in seguito girelli passeggini dentini vasini braccioli lego duplo orsacchiotti fino ad arrivare tra le tragiche festine di compleanno ma quelle giunsero dopo al primo anno di materna che ero già separata da un anno non sopportavo di andare da sola ai raduni della scuola tra gli sguardi pietosi preoccupati delle altre mamme figuriamoci ai compleanni dei loro figli le madri sono sempre preoccupate per qualcosa se non sono le vaccinazioni obbligatorie è la pupù non vi dico che tormento per il dramma di una mamma single ore e ore di poverina come farà povero bambino hai visto che scollatura come farà ma non lavora è una scrittrice perché io ero separata mentre loro erano tutte felice non importava se i loro mariti non c'erano mai né di giorno né di sera e raramente nei weekend o se tornavano a casa con quattro gocce di chanel numero 5 sul colletto della camicia davanti ai panini al latte imbottiti di prosciutto cotto la loro preoccupazione ero sempre e solo io quella single la senza marito una mamma mezzo sangue metà strega quale probabilmente sono e metà babbana o forse forse babba ho sempre detestato i compleanni dei bambini i maghi i clown il circo specialmente per le musichine in stile la bambola sassina in effetti non ho mai avuto neppure un grande istinto materno prima di conoscere mio figlio sta di fatto che mi sono sforzata un sacco di volte di socializzare con i genitori dei compagni dell'asilo accettando puntualmente ogni invito che di regola sopraggiungeva almeno quattro settimane prima della festa con tanto di in ogni caso nonostante l'impegno non ne combinavo mai una giusta il compleanno era di martedì lo scoprivo il venerdì c'era da fare un regalo di gruppo avevano già prenotato un videogame mi presentavo con un peluche da luna park che nessuno sapeva dove mettere la festa era in maschera ispirata per esempio a froze noi arrivavamo in jeans ma soprattutto valeva anche il contrario quando la festa era in jeans noi arrivavamo vestiti come Elsa e la renna stefania nasci in beni questo romanzo è stupendo fa un sacco ridere e vale per tutti perché leggendo questo libro ognuno di noi in un certo momento ad un certo punto ci si riconosce sicuro 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 allora io e stefania volevamo farvi una sorpresa oggi per la festa della mamma e spero che sia stato gradito vi ringrazio perché eravate tanti nonostante non ci fossero presentazioni ufficiali prima di questa mattina ma come vi ho accennato all'inizio è proprio stamattina che abbiamo deciso di fare tutto quindi io l'ho letto io ho già letto tutto il libro ovviamente ma una volta e quindi mi sono concesso una lettura veloce quindi spero di essere riuscita a trasmettervi la meraviglia che è e è un brano un brano del libro happy happy family di stefania nasci in beni le librerie sono aperte vi tocca soltanto comprarlo ciao adesso davvero non ci vediamo fino a martedì o meglio se volete domani sera venire ad autori in salotto e c'è la diretta stream yard mi sembra con nadia schiavini e la presentazione del libro dove crollano i sogni di bruno morchio ciao buona domenica a tutti ciao